Sono andato nella pasta all'uovo della mia ex moglie, mi voleva dare due martellate e allora ho detto vabbè via facci i maltagliati da solo che sennò tu me martelli, guarda come l'ho maltagliati. Ho preso un peperoncino dolce e l'ho tagliato tutto a pezzettini e poi ho messo a soffriggere con l'olietto un poco d'aglio, un poco di salvia e dopo ho buttato giù i peperoncini non piccanti. Poi ho preso la ventricina abruzzese, quella bella colesterosa tutta grassa, grassa e anche un po' piccante, l'ho messa giù, l'ho fatta scioglio un pochino e poi ci ho messo l'acqua di cottura della pasta. Ho cotto i maltagliati al dente, l'ho scolati e poi ci ho messo tutta questa popò di salsa e poi ho trovato anche la stracciatella del mio amico Marco, guarda come fila e fonde manco craft. E poi lo baniamo!